buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parleremo di fede rispondo ad un signore il quale mi fa questa domanda dottore che cos'è per lei la fede ipnotica io ho risposto la fede ipnotica è tutto come diceva anche il buonanima di bernheim un famoso medico di nancy il quale scettico del mondo dell'ipnosi e pensando che un altro medico di un paesino vicino nancy un certo liebo fosse un imbroglione un ciarlatano andò nel suo studio per trarlo in trappola smascherarlo e si accorse che liebo diceva la verità centinaia per non dire migliaia migliaia di persone guarite per casi impossibili nel 1800 secondo me dal 1800 ecco cos'è ragazzi il potere della mente dell'essere umano però condizio sine qua non che è latino e significa condizione senza la quale non si può fare nulla e credere in se stessi credere nel proprio potere mentale per ottenere il massimo del massimo è logico che l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola unica al mondo non chiede il tuo credo né la tua fede perché funziona anche per gli scettici per chi non crede però se tu credi intimamente in te stessa in te stesso nel tuo potere mentale tu puoi dire montagna spostati la montagna si sposterà purtroppo la gente anche nel mondo dell'ipnosi ma anche in altre discipline alternative come la meditazione lo yoga ha miliardi di dubbi nel proprio subcosciente inseminati instillati da vittime di altre vittime i nostri genitori e anche dalla dagli amici dalla scuola dal sistema che ci circonda per cui questi dubbi che cosa fanno ti fanno cadere nelle acque c'è molta gente che ha poteri incredibilmente forti che però non sfrutta perché non crede in se stesso in se stessa perché con l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola unica al mondo devi soltanto iniziare anche da un semplice e unico e solo audio mp3 dicesse che può fare per te come no depressione no ansia eco entusiasmo molto controllo dei nervi no stress salute ed esito eccetera 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 e seguire le istruzioni molto facili facilissime alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro e meravigliarti iniziare a capire come funziona questo potente computer chiamolo come vuoi questo genio della lampa di tealatino che nessuno conosce di fatto neanche chi sta nello stesso mondo dell'ipnosi perché pensano che ci siano dei limiti a me stupisce per tanti anni l'ho creduto pure io questa cosa che il subcosciente abbia dei limiti se tu non sei portato per una cosa inutile che ti impegni non ci riuscirai se tu vuoi essere come ronaldo non puoi essere ma chi lo dice chi lo dice chi l'ha detto tu puoi essere tutto di più se solo se sfrutti il potere del tuo subconscio con l'ipnosi dicesse vera professionale la b maiuscola unica al mondo non esiste di pari perché l'ipnosi dicesse vera professionale con la b maiuscola unica al mondo non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film ma neanche con la stessa pur ottima ipnosi conformista commerciale di milton hickson dav elman brian perché è diversa perché è unica perché non richiede la tua volontà non richiede il tuo credo certo se credi in te stesso non guasta ma chi ipnotizza se non ha la fede ipnotica perché qui si sta parlando di fede ipnotica per non divagare deve credere nelle proprie capacità nelle proprie possibilità perché se tu professionista dell'ipnosi hai dei limiti mentali hai dei dubbi di pensi che tu puoi arrivare fin qua e non puoi andare oltre oltrepassare come fai a trasmettere certi concetti a chi ti sta davanti non lo trasmetterai mai né consciamente certo è che mi meraviglia quando la gente blatera tante volte mi sono trovato a livello internazionale con delle persone le quali ripetono a me sono un ipnotista poi gli chiedi ma tu cosa hai fatto e si fermano perché non hanno fatto non sanno cosa fare per un determinato problema perché non l'hanno mai vissuto nella loro vita reale ok perché perché non hanno fede ipnotica bisogna avere la fede ipnotica per muovere le montagne e non tutti ce l'hanno e non tutti sanno come fare per averla fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor Claudio Saracino unica al mondo un bacio un abbraccio amico mio amica mia dal dottor Claudio Saracino alla prossima ciao